Grazie per avermi inclusa in questa bellissima giornata di riflessione comune. Io mentre riflettevo mi preparavo un po' a questo incontro. Ho riletto un piccolo libro pubblicato in italiano qualche anno fa, che è un'intervista sull'identità a Zygmunt Bauman, che è un autore molto amato in Italia, anche perché è molto tradotto. Lui dice, tra tante cose, che quando era stato posto dinanzi, perché gli conferivano una laurea e onoris causa, posto dinanzi alla scelta se far suonare l'inno polacco o l'inno inglese, ha scelto di far suonare l'inno europeo, perché era troppo forte la ferita inflitta dalla sua origine, appartenenza, cittadinanza polacca e troppo debole ancora l'affiliazione al paese che lo aveva ospitato. Cap cadeva prima di Brexit, ma ciò non toglie che l'Inghilterra ha una tradizione di accoglienza. E lì che cosa c'è da dire? C'è da dire che c'è un po' di retorica in questa affermazione, però è un modo giusto, secondo me, per avvicinarsi al tema dell'identità intesa anche come appartenenza ad un contesto culturale, diceva Giovanni ora, un contesto politico e culturale. Io nel mio contributo cercherò davvero di non dilungarmi perché siamo stanchi ed è tardi, ma voglio provare a dire che l'indipendenza delle corti e quindi anche l'indipendenza dei singoli giudici, questo è stato messo in evidenza da alcuni interventi, deve essere intesa come valore comune dell'Unione. Il Presidente Leners ha scritto recentemente che è un prerequisito per le corti che intendono avviare un dialogo con la Corte di Giustizia. E il mio Bauman che ho citato prima dice, attenzione, la voglia di identità nasce da un desiderio di sicurezza, esso stesso un sentimento ambiguo, perché se questo desiderio lo lasciamo fluttuare nell'aria per troppo tempo, diventa una condizione, scrive, sfibrante e ansiogena. E questo è il momento in cui siamo noi, cioè non dobbiamo lasciare sfuggire di mano questa ansia e questo desiderio di identità che si sente respirare in maniera problematica in Europa. Io avevo preso le mosse dalle conclusioni dell'Avvocato Generale Emilio, nel caso che poi è stato citato e che sarà pronunciata la sentenza il 7 settembre, caso Lettone, in cui c'è un problema di identità legato alla lingua, alla lingua Lettone, che veniva imposta come unica lingua in istituzioni accademiche, diritto ed economia, possibile ostacolo alla libertà di stabilimento. Lì l'Avvocato Generale forse ha voluto essere un po' provocatorio, perché aspetto nel passaggio che mi sono un po' appuntata, che la Corte di Giustizia non ha ancora sufficientemente approfondito la nozione di identità nazionale. Leggeremo la sentenza, sicuramente l'avrà approfondito, ma dice anche, e qui è stato ripreso ancora una volta dal Presidente Lenners stamattina, che questa clausola identità del 4, paragrafo 2, non può essere una clausola di esonero totale troppo agevole dalle norme e dai principi del trattato. Quindi l'obbligo dell'Unione di rispettare l'identità nazionale non può equivalere a un diritto dello Stato membro di ignorare come vuole il diritto dell'Unione. Ha detto il Presidente Lenners, non è un diritto di costruire muri. Allora anche la Corte di Costituzionale ha usato proprio la lingua come elemento identitario, ma è fin troppo noto questo punto, questa è in parte della cultura, sentenze risalenti che non cito, ma la metafora linguistica è sempre molto importante quando si parla di questi temi, perché la lingua è, ringrazio anche il Presidente per aver ricordato questa espressione semplice che io ho adoperato, parole comuni, perché parole comuni è parole comuni, come dice Filippo, nei valori come collocati o anzi motore del processo dell'integrazione, perché la lingua è effettivamente, la lingua parlata dalle corti costituzionali, dalla Corte di Giustizia, è una lingua che sempre più avvicina anche i concetti e i valori e per questo io penso che le corti costituzionali che fortunatamente si muovono all'interno di sistemi democratici solidi, e questo è il caso del nostro Paese, hanno un po' un dovere, scusate se uso questo termine forse eccessivo, di offrire esempi di forte razionalità nell'argomentazione, quindi di offrire non soltanto esempi di indipendenza ma anche di equilibrio, di razionalità nell'argomentazione, quindi dare un po' un buon esempio, se posso usare ancora una volta un'espressione semplice, è avere questo comune obiettivo, che è un obiettivo prioritario, di una permanente adesione ai valori fondanti dell'Unione. Più volte è stata citata la sentenza Repubblica, che è stata redatta dalla nostra giudice Rossi, io non ripeto, non ripeto se non per citare la clausola di non regressione, perché su questo vorrei poi porre un piccolo quesito ai nostri ospiti che sono anche i nostri interlocutori oggi, perché la professoressa Rossi anche in un contributo accademico ha chiarito che i valori di quell'articolo 2, che sono da intendere come principi costituzionali dell'Unione, sono vincolanti per le istituzioni, per gli Stati membri, sono riconducibili e ce lo ricordavano tanti colleghi oggi ai criteri di Copenaghen, quindi condizionano l'adesione volontaria, si diceva giustamente volontaria, alla Unione Europea, però ci dice la professoressa Rossi, sono come tali giustiziabili e quindi si pongono su di un piano distinto, questo è un punto che io trovo molto interessante e vorrei che fosse approfondito, dalla procedura di controllo di cui all'articolo 7 e d'altronde a queste conclusioni giungono molte sentenze innogative che io non cito perché sono state citate talmente tante volte oggi, ma certo non posso non dire che la sentenza dell'Associazione dei Giudici Portoghesi che ha messo insieme in questo felice binomio il 2 e il 19 TUE, ma soprattutto nell'interpretazione sistematica con il 47 della carta e poi con il 267 sul rinvio pregiudiziale, ecco forse è proprio un esempio di quella concretizzazione di cui parla Emanuela, perché la Corte usa questa parola, dice concretizza il valore dello Stato di diritto e allora, stabilito che non sono consentite deroghe dallo Stato di diritto, resta da chiarire quanto questa interpretazione dello Stato di diritto si possa dilatare, se posso usare questa espressione, fino a includere, e questa è un po' la mia domanda, altri valori che non sono, così a una prima impressione, riconducibili ai valori classici dello Stato di diritto, che però fanno da cornicio e sono quel contesto di cui più di un intervento oggi si è soffermato e che forse rispondono anche alle aspettative del cittadino deluso e disilluso, Giovanni ancora una volta, e per esempio il principio di non discriminazione, la parità di trattamento, la ragionevolezza delle regole che sovraintendono alla piena inclusione dei cittadini europei e dei cittadini legalmente residenti nell'Unione, quindi la domanda è posta a voi, si può andare oltre i criteri di Copenaghen? Si può arrivare a un punto in cui si allarga anche con la collaborazione delle corti costituzionali l'interpretazione dei criteri che fanno da cornice, ma forse nutrono lo Stato di diritto, seppure non sono dei principi fondanti in quanto tali dello Stato di diritto. Qui forse ci si potrebbe obiettare, ma qui servirebbe il legislatore, forse non può la corte o le corti costituzionali, qui mi è tornata in mente una lezione tenuta dal Presidente Amato qualche anno fa al Cesare Galfieri, dove lui ripropone il suo tema molto caro, non solo a lui, dell'Europa a doppia velocità, come si può spingere in avanti il legislatore, sia pure a doppia velocità. Questo perché? Perché a volte qualche paese o qualche critico o qualche studioso avverte l'esigenza, se mi consentite ancora una volta un'espressione a tecnica, di alleggerire il peso che grava sulla Corte di Giustizia, che è anche un peso politico, indubbiamente, in certe decisioni. E quindi il legislatore che interviene in un raccordo fra istituzioni per dire la sua, ho pensato per esempio ai casi di annullamento proposti dalla Repubblica Slovacca e dall'Ungheria contro la decisione del Consiglio che aveva stabilito a favore dell'Italia e della Grecia misure eccezionali per i flussi di migranti. Ecco, lì la Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi e cosa ha detto? Ma no, queste sono misure complementari di politica comune, di asilo e dobbiamo osservarle, devono essere rispettati i principi di certezza e di diritto, dobbiamo, è una solidarietà imposta se vogliamo, da un lato dal legislatore, sia pure con una misura eccezionale e dall'altro dalla Corte che ha confermato. E l'altro esempio, è l'esempio sotto gli occhi di tutti, della crisi dei profughi ucraini e di una decisione che addirittura risale al 2001 e che è stata ripresa, ripescata, scusate, direttiva, la cui attuazione è stata resa possibile da una decisione del Consiglio. Quindi ancora una volta una solidarietà che si era prefigurata in anni passati e che oggi è stata imposta con una scelta legislativa concreta. L'altro caso che mi porta poi alla mia seconda domanda ai nostri ospiti è il caso che è stato più volte citato, RS, un caso importante perché qui certamente la Corte di Giustizia contrasta, e uno potrebbe dire, ma questo è un contrasto frontale, ma contrasta la decisione della Corte Costituzionale rumena che invocando l'identità nazionale rivendica questa sua autonomia totale nel stabilire l'istituzione di una situazione specializzata del Pubblico Ministero. Attenzione, qui sullo sfondo c'è un atto legislativo di difficile interpretazione, in realtà non tanto di difficile interpretazione perché è una decisione indirizzata alla Romania proprio sui criteri da seguire per adeguare il suo Stato. Ci sono due opinioni dissenzienti che si possono leggere in inglese, io ho avuto la fortuna di leggerle in inglese perché purtroppo la traduzione inglese non figura sul sito della Corte rumena, e dove le due opinioni dissenzienti dicono che le decisioni sono a tutti gli effetti vincolanti nella loro interezza e sono vincolanti gli allegati, perché negli allegati si indicano i cosiddetti benchmarks, cioè i criteri precisi, minuziosi che si devono seguire per adeguare l'ordinamento rumeno ai valori dello Stato di diritto e dell'indipendenza. Ecco, la mia domanda è qual è la latitudine degli inadempimenti degli Stati che la Corte di Giustizia è in grado di misurare? Come è difficile entrare nel merito degli inadempimenti? E a questo proposito ho letto con molto interesse la terza edizione, l'ultima edizione del rapporto sullo Stato di diritto pubblicato dalla Commissione, questa volta con delle raccomandazioni specifiche a tutti gli Stati membri e qui si dice nel capitolo sul bilanciamento fra i poteri istituzionali si dice, attenzione, fondamentale il ruolo delle corti costituzionali è delle autorità indipendenti, dice il rapporto, quindi verrebbe richiamata l'autorità per esempio sulla concorrenza e anche il Consiglio d'Europa tra l'altro ha contribuito alla redazione perché il Consiglio d'Europa ha una tradizione risalente di definizioni degli indicatori sullo Stato di diritto. Allora, in RS ci sono dei passaggi che davvero non smettono di attrarre la nostra attenzione e sono meritevoli di ulteriore attenzione perché ancora una volta, questo è stato ricordato, quando si dice, articoli 2 e 19 si citano, non impongono un modello costituzionale preciso, questo è stato detto più volte oggi, però si dice anche, disposizioni nazionali, quando anche di rango costituzionale non possono pregiudicare il primato del diritto dell'Unione, la sua unità ed efficacia nel rispetto del principio di eguaglianza degli Stati membri, anche questo un principio oggi più volte ribadito e che anche la Corte Costituzionale ha inteso ribadire citando RS e altre decisioni. Allora, i giudici nazionali in questi casi, sembra di capire, devono disapplicare le disposizioni contrastanti anche per non compromettere il principio di leale cooperazione, ma perché lì si dice nella sentenza potrebbe essere se no un incentivo a dissuadere i giudici nazionali dal sollevare questioni pregiudiziali, dall'essere giudici europei. È una sentenza particolare RS che va contestualizzata, però non c'è dubbio che noi oggi ci interroghiamo su questa latitudine dell'inatempimento e chi li misura e come si misurano. Torno ancora una volta alla metafora linguistica perché mi veniva in mente, visto che c'è stato un riferimento al matrimonio, io faccio un riferimento alla genitorialità perché forse la lingua europea figura come una lingua madre se è una lingua parlata dalla Corte di Giustizia e quindi l'indipendenza è un canale di accesso a quel linguaggio, è un linguaggio comune, è proprio un presupposto per raggiungere obiettivi condivisi. E allora il professor Petruzella ha scritto tra l'altro che ha questa duplice dimensione, l'indipendenza, anche oggi un po' lo diceva, interna ed esterna, l'indipendenza dell'ordinamento nazionale, l'indipendenza nell'ordinamento europeo e si uniscono poi queste due dimensioni della indipendenza. E allora il principio del primato del diritto europeo non contrasta, questo è stato ricordato anche oggi, con il sindacato accentrato di costituzionalità. Questo la Corte Costituzionale l'ha ribadito, a me sembra come dire anche assodato come principio, però forse c'è bisogno di ribadirlo e sono incuriosita dal modo in cui è stato richiamato con diversi accenti oggi. In altre parole, bisognerebbe liberare le Corte Costituzionali da questa sindrome dell'abbandono, cioè di non sentirsi più richiesti, di non sentirsi più utili, di perdere questa funzione, che però nessuno ha mai inteso negare, di decidere con l'efficacia erga omnes delle decisioni e quindi con un intervento. Ma noi usiamo questo tono e noi ricordiamo il primato in questi termini e la Corte Polacca, con un tono assolutamente non conciliante, ci dice che le decisioni della Corte di Giustizia hanno un carattere ibrido, ha scritto questo, hanno un carattere ibrido, non devono essere ritenute vincolanti, anche perché in forza di una norma, di un articolo della Costituzione Polacca, dice che loro non sono altro che un qualunque trattato internazionale e quindi sono di rango inferiore rispetto alla Costituzione Polacca. E sono certa che nota a tutti questo recentissimo ricorso delle quattro associazioni di giudici europei, è un fatto di grande interesse, straordinario, vedremo come sarà raccolto, e ricorrono contro la decisione sull'articolo 263 del Trattato sul funzionamento, contro la decisione del Consiglio dell'Unione per la decisione di sbloccare i fondi. E qui forse c'è, come dire, un po' un'altra domanda, perché è chiaro che la vicenda che riguarda la Polonia, o l'Ungheria o la Romania, ci riguarda tutti, non solamente come giudici, ma come cittadini europei in questo momento. Cioè siamo interessati non a vedere risolta una contesa fra due, ma a vedere assodati certi principi, a vedere avvalorati certi principi. E allora queste importanti decisioni sulle condizionalità, anche queste più volte richiamate, dove tra l'altro la discrezionalità del legislatore europeo si vede proprio nel corretto bilanciamento con altre istituzioni europee. Cioè la trasparenza contabile, che diventa il forte elemento che la Corte illustra per dire osservate lo Stato di diritto, perché noi stiamo facendo un ragionamento trasparente applicando le regole del bilancio europeo, potranno essere queste decisioni ritoccate alla luce del fatto che alcuni Stati ritengono, alcuni commentatori, vedremo come sarà accolto o se sarà mai accolto questo ricorso delle quattro associazioni, ma si può ridiscutere questo tema della condizionalità alla luce di eventi inattesi, per esempio i propri ucraini, l'accoglienza che è stata offerta a questi soggetti deboli. E appunto però le quattro associazioni hanno fatto ricorso e quindi questo è un punto su cui magari sentire una parola può essere interessante, perché ho l'impressione che mai come in questo momento sia davvero importante parlare di comunità delle corti dell'Unione Europea, qui si deve al Presidente Leners l'avvio della rete delle corti europee, funziona sempre meglio se posso dire, tra l'altro la corte costituzionale italiana è molto attiva anche grazie alla collaborazione dell'amministrazione della corte, perché nel rapporto sullo stato di diritto che prima ho citato si dice che fra gli stakeholders sentiti dalla Commissione per redigere il rapporto c'è stata la conferenza delle corti costituzionali europee, ecco allora l'Europa orizzontale come è stato detto, l'Europa orizzontale, ma queste conferenze delle corti europee, la conferenza della corte mondiale, noi siamo anche lì molto attivi come corte italiana, non dovrebbero forse essere un pochino di più al centro dell'attenzione, un pochino più attenti anche ad una comunicazione mediatica, cioè sono soggetti apparentemente rappresentativi, ma non molti sanno della loro esistenza, vengono però ascoltati come stakeholder dalla Commissione, forse seguendo dei criteri obiettivi e trasparenti si possono segnalare i comportamenti di corti costituzionali virtuose in aree anche diverse rispetto allo stato di diritto, cioè si può mostrare anche un attivismo di corti, ripeto, virtuose, si può fare un po' di più perché anche queste raccomandazioni che ora la Commissione allega al rapporto sullo stato di diritto, siano comprese perché seguono molto il modello del semestre europeo e quindi hanno una valenza anche impegnativa, vincolante, sono tutt'altro che soft law, sono indicazioni di grande rilievo, ma può bastare tutto questo? La mia domanda è, siamo in un momento in cui quando la Corte di Giustizia in forte consonanza con la Corte di diritto dell'uomo rileva le crisi sistemiche negli Stati, come si prevengono i pericoli dell'assalto allo stato di diritto? Come si previene la messa in discussione dell'indipendenza dei giudici? Quindi il sistema delle condizionalità può bastare o va affiancato al sistema delle sanzioni? Queste naturalmente sono domande che forse esulano dal nostro ruolo come giudici, però ci interessano come comunque attori del dibattito pubblico e quindi prima ho evocato l'indipendenza come valore comune e ho cercato di dire, ma non ho detto nulla di nuovo, che è un valore prioritario proprio perché il Presidente Lenin dice precondizione, possiamo dire presupposto anche dell'eguaglianza fra gli Stati membri, precondizione per garantire la tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19.2 del TUE e quindi funzionale alla cooperazione tra le corti, per cui l'indipendenza concorre a creare l'identità nazionale come fondamento. Anch'io, Manuela, sono attenta all'espressione struttura costituzionale che è nell'articolo 4.2, perché è quel constitutional moment di Bruce Ackerman e la struttura costituzionale e quindi forse la Corte di Giustizia ci sta dando una mano nel tratteggiare i contorni dell'indipendenza come valore costituzionale europeo e credo che le corti costituzionali possono e stanno già dando un loro contributo in questa direzione. Grazie mille.